Non si possa uscire, vorrai una discoteca da me, canta senza luci e dolo, non stai a me. Sono tante le volte che siamo sicuramente sempre onorati di venire in questo luogo e cerchiamo ogni volta di trovare il tempo e la possibilità di portare sempre uno spettacolo che in questo luogo abbia un senso diciamo quindi i Subsonica sono nati e cresciuti anche grazie a luoghi come Radio Sherwood in cui abbiamo potuto esprimere, ci abbiamo potuto incontrarci ed essere liberi di poter esprimere le nostre passioni musicali quindi questo luogo lo sentiamo molto, come se fosse casa nostra diciamo io non ricordo esattamente il numero di volte, non so se tu Max ricordi esattamente il numero di volte però sono tante, sono tante le volte che siamo arrivati qui abbiamo trovato un caldo incredibile abbiamo trovato persone che passano due mesi e passa a organizzare, a costruire, a mettere in piedi questo spettacolo e noi siamo grati di questo sono state sicuramente più le volte, sono state quasi tutte i tour estivi dei Subsonica passare da Sherwood, tranne pochissime eccezioni io un ricordo ce l'avrei in realtà, non esistevano ancora i Subsonica e il Festival di Radio Sherwood esisteva da una sola precedente edizione quindi ero ma la seconda edizione del Festival di Radio Sherwood che si teneva all'epoca nei giardini, non mi ricordo come si chiamassero però in città e ricordo che ero il tecnico del suono degli Africa United prima ancora di salire sul palco con gli Africa United quindi stiamo parlando proprio di storie dell'altro secolo e ricordo anche perfettamente che andammo a dormire sulla mochetta della radio tutti quanti con sacchiappelli di fortuna comunque sono ricordi bellissimi, è stato incredibile vedere crescere progressivamente anche proprio organizzativamente anche come seguito, come capacità proprio di entrare nella cultura della città e non solo della città è stato davvero appassionante partecipare a tutte le varie fasi con gli Africa United e con i Subsonica progressivamente crescendo insieme in qualche modo Realtà Aumentate è stato un passaggio importante anche per noi perché in qualche modo dopo alcuni anni in cui c'eravamo un po' a suoi fatti all'idea di dover fare degli album il tempo in qualche modo ti spinge a volte a dei ragionamenti, a dei meccanismi che dai per scontato quindi intorno a noi c'è sempre stato un clima di attesa sia dal punto di vista discografico che dal punto di vista proprio del posizionamento discografico che in qualche modo ci stava un po' stretto negli ultimi tempi quindi la prima decisione che abbiamo preso è stata quella di sentirci il più possibile liberi e poter esprimerci come facevamo all'inizio della nostra carriera questa cosa ha generato un album che ci ha riportato dal punto di vista espressivo proprio a quei momenti storici e questa cosa ha coinvolto tantissimo il nostro pubblico abbiamo riscoperto molto del nostro pubblico che forse nel tempo si era un po' assopito e la tournée che abbiamo finito da poco nei palazzetti è stata spettacolare sia dal punto di vista dello show che abbiamo portato sul palco ma anche dal punto di vista del pubblico che in qualche modo si è riaffezionato a noi e ci ha aiutato tantissimo l'affetto del pubblico che è diciamo che è proporzionale anche all'esigenza di un pubblico cioè un pubblico che ama una cosa è un pubblico che è anche molto richiedente influenza moltissimo quella sorta di asticella sotto la quale non si può stare anche Samuel faceva riferimento a un periodo forse di assofazione di dinamiche extramusicali che pesavano più della musica stiamo parlando più o meno della stagione dell'album del penultimo album in studio cioè 8 quello è stato un momento faticoso per noi perché abbiamo faticato a trovare proprio la voglia di fare musica insieme abbiamo fatto diciamo così delle scritture più in solitaria poi l'assemblaggio in realtà di insieme è avvenuto più diciamo così nel confezionamento dei brani in studio e questa cosa qua in parte si sente in parte ha reso anche meno piacevole proprio la scrittura di quell'album però anche in quel caso che forse ecco per noi è un album che giudichiamo faticoso poi in realtà le orecchie e gli occhi degli ascoltatori hanno altri parametri fortunatamente però anche in quel caso non c'è neanche un brano nel quale noi possiamo disconoscere la paternità cioè abbiamo sempre cercato di mantenere magari in alcuni brani ecco la magia non la puoi se non si crea se non scatturisce da una scintilla di insieme con delle modalità che sono ingovernabili a volte può non esserci però per quanto riguarda l'impegno proprio la fattura dei brani sapendo che di avere un pubblico molto richiedente siamo sempre stati abbiamo sempre messo tutte le energie che potevamo mettere in tutto quello che abbiamo sempre fatto e la stessa cosa anzi a maggior ragione riguarda i concerti anche nei momenti noi abbiamo quasi 28 anni anzi abbiamo 28 anni di storia inevitabilmente ci sono dei flussi però anche nei momenti di flusso negativo il palco è sempre stato il luogo dove le singole individualità in qualche modo rimanevano fuori perché di fronte al pubblico dei Subsonica non puoi pensare di non poter fare riferimento all'energia dell'altro perché hai bisogno comunque di soddisfare un'aspettativa che poi in realtà abbiamo costruito noi ma negli anni l'abbiamo costruita bene presso un pubblico che è cresciuto con noi che ha un'esigenza dal punto di vista proprio del fabbisogno energetico di un certo tipo e quindi in qualche modo questo ci ha sempre costretti a dimenticarci di essere degli individui ogni volta che saliamo su un palco e molto probabilmente è stato anche un po' l'elisir che ci ha tenuto insieme in qualsiasi fase in qualsiasi momento di questi 28 anni di storia quella è stata la domanda la domanda se c'è ancora bisogno di Subsonica è stata la domanda che ha innescato una serie di pensieri di ragionamenti che poi hanno portato a una consapevolezza la consapevolezza è stata che i primi che avevano bisogno dell'esistenza ancora dei Subsonica eravamo noi stessi un po' perché testando in il viaggio solitario ci siamo resi conto che con i Subsonica abbiamo raggiunto una perfezione di d'intenti e di artistica che singolarmente forse non saremmo mai riusciti a raggiungere abbiamo veramente creato una complementarietà rigenerare quel complesso calidoscopio di sensazioni e emozioni che portano poi alla scrittura e al percorso così lungo e così importante di una band diventa impossibile ragionarlo in solitaria e questa cosa qui ci ha subito rimessi in bolla ci ha subito in qualche modo ritrasportati un po' teletrasportati ai primi anni della nostra vita musicale insieme in cui c'era l'innamoramento iniziale per cui ogni cosa veniva rimbalzata nel modo giusto ogni cosa veniva riverberata nel modo giusto questa cosa qui ha dato vita a un album di cui siamo estremamente soddisfatti e che giudichiamo sia un po' la rinascita di quella sensazione che proviamo quando facciamo musica insieme ti ringraziamo vorremmo solo spiegare un attimo il senso della canzone che che soneremo dopo purtroppo è un senso che drammaticamente risuona quotidianamente attuale ci sono 70 dispersi in mare di cui 26 bambini a largo di rocella ionica e sembra che la strategia per questa cosa da parte dei governi come il nostro sia quello di fare affogare le persone in mare la risolviamo così molto spesso le persone si rivolgono alla musica proprio per vivere un momento di libertà e per identificare la propria esigenza di libertà magari nella storia nelle canzoni nella produzione artistica di qualcun altro persone che magari possono anche non sentirsi liberi possono anche non riuscire ad avere determinato con determinate scelte la propria esistenza quindi c'è una richiesta c'è un fabbisogno di libertà ed è un'esigenza che si rivolge alla musica quindi un artista deve essere in qualche modo libero perché se no non riesce a trasmettere questa sensazione quando in qualche modo costruisce una sorta di formula inevitabilmente anche solo mettendo insieme cinque personalità diverse diciamo origine una sorta di identità sonora nel caso poi questa cosa possa avere anche un successo rischia a quel punto di diventare vincolante nel senso che quando qualcuno ti ha detto bravo in qualche modo ha circoscritto una sorta di di perimetro uscire da quel perimetro e rischiare di non sentire più sentirsi più dire bravo è una forma di autolimitazione della libertà artistica quindi soprattutto quando incomincia a fare ormai siamo noi siamo al decimo album insomma una serie di album l'equilibrio che devi trovare è fra la tua esigenza di continuare a sperimentare che in qualche modo in qualche modo riprodurre quelle che erano proprio le attitudini dell'inizio però contemporaneamente in una sorta di di percezione da parte del pubblico di riconoscibilità e quindi lì in qualche modo entra in campo una sorta di di stagione della maturità cioè la maturità è quella fase artisticamente parlando verso la quale tu non limiti nulla di quello che vuoi fare però sai anche che non tutti sono disposti a seguire quelli che possono essere i tuoi capricci o i tuoi cortocircuiti artistici o tutta una serie di cose che hanno a che fare magari più con una soddisfazione tua personale perché le persone riuscirebbero non riuscirebbero magari più a riconoscerti quindi continuare a mantenerti riconoscibile e libero allo stesso tempo è proprio un po' l'obiettivo in qualche modo è un po' un passaggio obbligato per le storie di lungo corso che può aspettare anche quando c'è più dolore che sono rinchiando che sta laggiando in qualche video in qualche modo in qualche moment a un passaggio che sta